Soverato vince e prova la fuga a Bivongi Pazzano, vicecapolista. C'è un primo a lungo in testa alla classifica. La capolista passa da più 2 di vantaggio a più 4. L'ottava di andata ha modificato anche il secondo gradino del podio. La copertina quindi spetta all'imbattuta primatista Soverato che approfittando del turno di riposo della promosport Lamezia ha aumentato il divario sull'immediata inseguitrice battendo a domicilio la Real Fabriziese. Aprezza fino per i locali ribaltando il risultato Criniti e Ventura. Per la formazione ionica è la sesta domenica in vetta a dimostrazione di intenzioni molto serie. La nuova vicecapolista è il Bivongi Pazzano che ha scalato la promosport grazie al terzo successo di fila, tutti senza incassare reti. La difesa sembra essere il punto di forza della compagine regina che ha chiuso la partita in goleada. 5-0 alla Sersalese con Marulla, Salim, De Luca e Ciminelli. Chiudono la zona playoff il Real Montepaone e la Stella del Sud di Mileto. Diversi risultati conseguiti dalle due compaggini. Il Montepaone, la seconda squadra imbattuta, è stato imbrogliato in casa dal Piscopio sul risultato ad occhiali 0-0. Incontro intenso ma nessuna rete, la Stella del Sud invece ha sconfitto 2-0 sul proprio terreno la polisportiva Palermiti con vertice e lo Iacono. Il Pino, donato Taverna, è ritornato in campo dopo la gara rinviata nella scorsa giornata a causa del decesso di un piccolissimo tesserato durante un allenamento. La compagine della Silana ha violato 1-0 il rettangolo dell'Aureana con Cariati. Risale posizione importante il Pizzo a meno uno dai playoff che ha travolto tra le mura amiche il Prasar. I Napitini, al quarto risultato utile consecutivo, sono andati a segno con Soriano, Tripodi e Rombolà. Prima vittoria in un campionato per la Rosarnese che ha espugnato il campo del Santo Onofrio e Reggini in gol con Catalano e Capria, padroni di casa con Naccari. Nel prossimo turno scontro tra le prime due della classe e il riposo per il Real Montepaone. Questi risultati e la classifica. Questa è la classifica. Soverato 19 punti, Bivongi 15, Promosport 14, Real Montepaone Mileto 13 punti, Donato Taverna 12, Pizzo Episcopio 11 punti, Real Fabriziese e Sersale 10 punti, Prasar 9, Rosarnese 5, Palermiti e Laureana 4 punti, Santonofrio 2 punti.